And they say that a hero can save us, I'm not gonna stand near the wings, I hold on to the wings of the eagles, watch as we all fly away, and they're watching us, they're watching us. Chi la sei là ragazzi, sono Anne Bichelle e oggi siamo tornati su Beyond Good and Evil. Allora, che cosa è successo nella scorsa parte? Siamo andate al Garage Mamago, abbiamo fatto una caverna dei ladri che ci ho messo tanto, quindi l'ho dovuta edificare per forza, e abbiamo fatto pure la prima gara. Adesso faremo la seconda gara e andremo nell'Isola Nera. Ok, andiamo da questa parte, per andare nella seconda gara. Ok, forza! Appello a imbranati, deboli e codardi! Avete tre secondi per scappare e tornare a fare la calzetta! Ok, il dito è pronto sul tasto Q per fare il turbo. Allora, 3, 2, 1, no, lo dici? Va a fare sì! 3, 2, 1, via! Ok, questa gara è un po' più difficile della prima, ok. Mi sa che devo usare il turbo! Eh sì, devo usare il turbo! Ah, l'ho sprecazzato! Ho sprecazzato il turbo! Ok, sono a quinto posto! Ok, faccio uno sprecazzatoio, vabbè! Ok, quarto posto, non male! Terzo posto, ok! Dove sono gli altri due? Ok, intanto io mi metto a senti chiare. Non ci posso credere che ho sprecazzato il turbo, vabbè! Ok, qua c'è la squadra. Grazie, zio Paige! Ok, ci sono quasi il primo giro per la novellina! Ho il primo posto per un pelo! Ho il primo posto per un pelo! Ok, ci sono qua! Devo solamente superare questo e ho il primo posto per un pelo! Jambalaya! Wow, per un pelo! Wuhuu! Va bene, non ho fatto il record, però va bene! Vabbè, non mi ricordo le parole, però va bene! Sono felice! Un po' per un pezzina, che raccino! Spiacente, amici! Ma avete ancora molto da imparare! Esatto, Paige! Beviamoci su! Ok, abbiamo ottenuto un'altra perla! Ok, indietro, andiamo indietro! E la banca ci ha dato mille crediti! Perfetto! Del vero sono unità, però va bene! Ma non ci posso credere che ho sprecazzato! Sangue e divertimento per tutta la famiglia! Non credo! Siamo pronti per la terza! Il circuito è proprio dietro al nostro faro, mi sembra! Eh sì, però è ancora un po' troppo presto per fare la terza! Per fare la terza gara, la faremo più! Oddio! Oddio! Ponsuiton! Che bella! Ponsuiton! Terra in vista, capitano! Isola nera a prua! Lo so, l'isola nera! Ok, tab! Appello ai testimoni! I traditori della rete Iris sono sbarcati da qualche parte su Illys! L'auta ricompensa per ogni informazione! La rete Iris! Che cos'è la rete Iris? Se non mi sbaglio qua c'è un animale! Ma forse comparerà più l'ascido! Mamma mia, quando mi sento così... L'ascolterai per ora e non si tromba! Non so se ci vediamo! L'ascolterai per ora e non si tromba! Meravigliosa! Non si tromba è veramente meravigliosa! Meravigliosa! Giuro! Ho gli occhi lucidi a sentire! Musica bellissima! Orca miseria! Ok, isola nera! Sono arrivata all'isola nera! Sto registrando da 5 minuti! Ok! Ok! Tutti i sede! Ah, è quello che ci ha dato il... Ok! Sede! Ok! Attracchiamo! Visto che ci siamo salveremo pure la partita una volta vicini! Ok! Intanto a cambiare con gli Starkos! Che ne ho di più dei kebabs! Ok! Ok! Andiamo verso questo signore! Salve signorina Jade! Il mio principale è il signor De Castilac Come ogni altro abitante di Illis auspica la fine di questa orribile guerra! Come tutti! Le squadre Alpha sostengono di respingere i doms ma ci tengono nascosta la verità! Perché? I mostri doms hanno già invaso ogni angolo del nostro pianeta! Ne sono stati avvistati due esemplari in fondo a questo cozzo minerario! Se non avvisiamo la popolazione sono destinati ad aumentare! Ah! E il signor De Castilac è disposto a pagare un prezzo molto alto per poter diffondere la foto di una coppia di questi mostri! Questa è una missione rischiosa e lei è libera di rifiutare! Ma anche no! I doms non sono certo nostri amici! Dica al suo capo che avrà le foto! Brava Jade! Così ti voglio! Ok, intanto parliamo con lui! Quei due dietro, giusto? Due Pterolimax, signorina! Sono quelli! Solo quelli sono creature doms! Sappiamo che lei sta lavorando anche una catalogazione della fauna eliana per il centro scientifico! Ma il signor De Castilac è interessato esclusivamente a Pterolimax doms! Ok! Paige, che dici in merito? Questo schizzo è un po' sommario! Non ti preoccupare! Mi so tanto che nel momento in cui li vedremo scopriremo perché non c'è un disegno migliore! Ok! Ok, intanto salverei la partita! Ok! Vai Jade! Salviamo la partita! Ok, salverei qui! Salva! Salvataggio completato! Ok! I salvataggi sono veramente abbastanza veloci! Ok! Buona fortuna! E non dimentichi! Il signor De Castilac vuole maschio e femmina nella stessa foto! Non si preoccupi! Ok! Qua ci sono degli animali! Ok! Se riesco a prenderli! Ah! Specie già fotografata! Ah! Mi parevano le mosche! Ah! No! 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 Vabbè può capitare! Poi qua ce n'è uno! Qua ce n'è un altro! Ma forse da qua non riesco a prenderlo! Brutta inquadratura! Troppo distante! No! Quello l'ho già fotografato! Battene! No! Qua non riesco a prenderlo! Ok! Forse saranno dentro alla miniera! Perfetto! Page! Ok! 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 Sei pronta Jade? Andiamo! Gli troveremo i suoi vermoni! Quanto sei spiritosa! Vecchia miniera! Ok! Infatti qua ce n'è uno! Ok! Questa è una mosca! Se riesco a prenderla la mosca! Perfetto! Ho preso la mosca! Via! Grazie Jade! Le mosche sono ingiustamente disprezzate! Chissà perché sono disprezzate! Ok! Stupida! Ok! Adesso come ci saliamo da questa parte? Ok! Puoi venire qua un momento? Devo dirti una cosa importante! Eh... Sì! 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 È pronto il momento di mostrarti la mia ultima invenzione! Due anni di lavoro nella massima segretezza! Il frutto di tutta una vita! Uh! I miei gioiellini! Gli stivali Jet! Stivali Jet! Usano un biocarburante fatto in casa! Questa è una sacca di metano pressurizzato! E qui nelle suole ci sono due turbo-reattori! Tutto quel che devi fare per accenderli è contrarre i muscoli addominali! È il mezzo di trasporto del futuro! Attendo un tuo segnale, Jade! Premi E per lanciarti in superazione! Subito! Uuuuuh! Bellissimo! Cili con carne! Mamma mia! Non ne voglio più cili con carne! E che andiamo! Ok! Andiamo! Tutto bene, Paige? Però? Ed ecco qui! Voilà! Bravo, Paige! Wow! Wow! Ok! Andiamo da questa parte! Se vuoi un'altra dimostrazione, fammelo sapere! Ok, vai, Zia Paige! Andiamo! Wow! Perché non me li hai mostrati prima? Esatto! Perché non li hai mostrati prima? Oh! Li stavo ancora perfezionando! Non sono perfetti! Non cambiare niente! Sono perfetti così! Vai, fa vedere quanto sei atletica, Jade! Ehi, principe di persa, scansati! Siamo a 11 minuti! La musichina del sollievo! Bel colpo, Jade! Ok, miniera! Ok, c'è una foto! C'è un... Ehi, Jade! Ecco la mappa! Scatta una foto! È il momento ideale per testare il tuo scanalizzatore! E certo! Ok! Ok, analizziamo! E ci dà una mappa della Pterolimax! Scatta una foto alla coppia di Pterolimax! Ok! Ok, abbiamo la mappa dell'isola nera! Però io più o meno mi ricordo quello che devo fare! Ok, questo è un animale! Via! Grazie! Ok, quanto ce ne mancano per finire il rullino? Due! Ok! Ce ne mancano due! Ok, attacca! No, no! Mi serve peggio! Vai! Eh, si vede! Eh, si vede! Ok, qua che cosa ci sono? Degli Starchos! E li prendo! E c'è pure un turbo che ho sprecazzato nella seconda gara! Mamma mia! Ok, vai! Bella! Avanti, Jade! Forza! Ok! Va bellissimo! Perfetto! Ma qua c'è pure una med... C'è una medusa e possiamo scattarci una foto! Via! Fa' attenzione con quelle anemoni mutanti! Tranquilla! Ok, via! Ok, abbiamo scattato la foto e dobbiamo attaccarla! E quelli che cosa sono? Cristallo Materia! Cristallo Materia! La banca di Hillis paga 5 unità per ogni cristallo Materia! Un cristallo Materia? Lo trasferirò to the suite in banca! Pagano mucho unità per ogni cristallo! Bueno! Grazie per l'informazione, secondo! Ok! Ok, basta, basta, basta con la combo! Basta con la combo, Jade! Ok! Ok, adesso dobbiamo andare da questa parte, sì! Ehi, Jade! Vieni a dare un'occhiata! Dove sei? Mi sa che serviranno degli attrezzi, se vogliamo passare di qui! Sì, infatti non ci possiamo passare! Siamo in una vecchia miniera! Deve pur esserci qualche capanno degli attrezzi! Ah, grazie del suggerimento, Paige! Però vieni! Però vieni da me! Però vieni da me perché ci serve! Intanto prendiamo quei cristalli! Andiamo! Prendiamo quei cristalli! Se riesco a prendermi! Sì, li ho presi tutti! Ok! Ok, li ho presi tutti! E adesso dobbiamo fare... Fare scinti... Ah, ce n'è ancora là! Ok! Vieni qua! Dimmi quando, Jade! Ok, vai! Attacco con stivali, Jade! Sì, ma se ti levino là! Il fatto ho preso! Ho preso! Ho preso il suo Paige! Ci sono delle lucciole! Sono perfette le lucciole! Ok, potevate scattarle pure al faro, se aspettavate la notte, però... Volevo andare avanti! Sta fermo! Bene! Lucciole! Magnifico! Sono bellissime le lucciole! Bene! Il tuo rullino è finito! Ah, terminati il rullino! Perfetto! Ti trasferirò una perla, Jade! Grazie! E ti ricaricherò il rullino! Ok, siamo già al terzo rullino! Ok, siamo già al terzo... Jade, va bene! Sei sex e tutto, però... Va bene! Ah! Santo cielo, Jade! Che cosa sei tu? Che cosa sei tu? Con le mani! Oddio! Mi sono spaventata! Che diavolo sei? Non sono riuscita a farti la foto! Cos'era? Crociax! Ce ne saranno altri qui intorno, Jade! Sono soliti attaccare in gruppi di due o tre! Ah! Bel... Buono a sapersi, Zio Page! Bene, grazie! Crociax! Devo riuscire a fare la foto al Crociax! In un modo o nell'altro devo riuscire a fare la foto al Crociax perché viene... È identificato come animale! Avanti, Jade! Da sola! Non ci riuscirò mai! Ora arriva... Ora arriva Zio Page e ti aiuta! Non si muove! Tranquillo! Ok! Azione! One! Two! Siamo... Stai riuscendo la tua 10 minuti e la 20 minuti che posso fare! Anche perché mi si sta scaricando... Eh... Jade, ti sei incastrata! Ok! Vai, sali! Bravissima! Wow, 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 wow! Piano! È un po' sì... Pozzo secondario! Santo cielo! Meduse! Meduse? Ah, no! È così, eh? Ok, riuscite al Creatore a massi di gelatina! Ok, sfotografiamo le meduse! Ah, queste piccole meduse! Luci tra le ombre! Esatto! Sono bellissime le muscoli che abbiamo giocato la nostra! Tama di dirla! Dimmi solo quello, Jade! Prendili, ragazza! Va! Ok, se riesco a fare quelle più grandi, sì! Quelle grandi sono mutanti! Fa' attenzione! Certo! Ok! Ora! Scusa! Scusa, Cia Pei! Ok, forse riesce! Ah, fai la foto da! Scusa! No, non me... Ah, stava a sardire in maglia l'edizione! Ok! Ok! Pronto! Scusa! Levati! Spont Vaz, viga! Ok, non se riesco a tutoria, niente stava attrava pada CroDEX. Ok! 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 Ok, Jade, ce n'è un Dov'è? Sono finite o no? Sì, sono finite Non avremmo mica esagerato, eh? Questo è il genere di servizio sugli animali che mi piace Ok, intanto quello è un animale Dai Ok Speriamo un attimo Grandioso, di solito le alici vivono in acqua Di solito? Ok, un attimo, metto le cuffie da un'altra parte, ok Avanti Ok, ci mancano ancora un bel po', siamo a 18 minuti, ok Possiamo continuare un altro po' Aspetta, diamo uno Starchos a Azio Page Tieni Grazie Ok, bene Ok Vai, Azio Page Riuscirò a fare la foto al crociax? Non lo so Olè Vediamo che cosa c'è Attento, Azio Page Vediamo che cosa c'è qua dentro Allora, intanto serverei la partita Sì, in tutta questa roba ci sarà sicuro qualcosa Azio Page Ok, vecchia miniera, salvato Ok, perfetto Intanto qua ci sono degli Starchos Riprenderevi Identificazione conto Ok Uno Starchos ripristina l'energia Uno Starchos ripristina l'energia di un cuore Uno Starchos ripristina l'energia di un cuore Ok, abbiamo 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 ottenuto un po' di Un po' di Starchos Vediamo che Jade, potresti aprirle con le mani Dovresti per forza Devi per forza calciare Certe volte sei peggio di Lara Jade Ok Ok, calcio Vediamo che cosa c'è Uh Chiave inglese Prendi, sei tu l'esperto Wow Un barranco di 53 con lama a percussione Ah 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 Roba seria Mamma mia Adoro Azio Page Ok Oh, tab Aprite gli occhi Le squadre Alpha sono complici dei Doms Unitevi alla rete Iris Complici dei Doms? Hmm, interessante Ok Andiamo Vai Page Eh no, ci si arriva Il tocco di mida Nessuna grata potrà fermarci Dov'è che ne abbiamo vista un'altra come questa? Se non erro qua c'è un animale Perché me la ricordo sta musichina Aspetta, sganciati Dov'è l'animale? Sì, da questa parte Bene Ho archiviato la foto Mamma mia Che bella la musica Che bella la lumachina Ok Aspettiamo che esca Dai, vieni Sì, non ti faccio nulla Che bella Congratulazioni È difficile raccogliere informazioni sulle lumache giganti Esatto Che carina però che è In effetti me lo ricordavo che facerano ben due animali Ok, perché mi sono Giustamente mi sono ricordata della musica e Pozzo secondario Ok Spero che ci siano ancora i crochex Oppure solo Le meduse Mi sa solo le meduse Mi sa stavolta solo le meduse Sì Vai Sì Aia Brutto Brutta medusa Ok, ripristinati l'energia Jade Ok, possiamo tornare indietro Vai Ok Giù Giù E Tor Oddio Quello era un urlo? Era sicuramente un urlo Mi ha fatto paura Ok Vai Paige Ok Oh, me lo sto ricordando Io pensavo di no Che avrei fatto qualche gatto E invece no Me lo ricordo abbastanza Usiamolo Identificazione Conto Ok Un PA1 Aumenta l'indicatore Energia di un cuore Ah, ecco Un PA1 Mio Scansione Ok Ora questo lo diamo a Paige Uno Starchos Ripristina l'energia di un cuore Uno Starchos Ripristina l'energia di un cuore Ok Diamo il Come si fa? Ok Diamolo a Paige Indietro Ok Non me Vai Ops Niente da fare per me Jade Non ti preoccupare Ehi Jade Dovevamo restare uniti Non temere Ci sono qui io Non ti succederà niente Vada bene a come parli Signorinella Rispetta gli anziani Ok Dovrei ricordarmi Quello che devo fare Prendili ragazza Ok L'anima Un'unità da prendere E ora Ah si 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 Ah si 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 Me lo ricordo Me lo ricordo Yes Ah ne ho mancato uno Vada niente ci fa Ok Ci si ha Scusate il rumore Ok 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 Vai Paige Ok Dove vado Dove vado La mira si L'ho presa giusta Bam Vai Paige Croce Ax Prego E arriva Zio Paige Oh no No perché se muore Paige È game over È automaticamente game over Ok Ok Ce l'ho fatta Scusami Paige Mi raccomando Non avvicinarti Mamma mia Non avvicinarti Ok Ok Ora Scusami Paige Grazie Olè Muori Ciao ciao Grazie tante Jade Se non fosse stato per te Penso proprio che Non dirlo nemmeno vecchio mio Muoviamoci Credo che il meglio debba ancora venire Adoro come Jade dice vecchio mio Ok Ok se non erro qua c'è un animaletto Ok Sì c'è un animale Brutto inquadratura Preso Una meba polipodia Complimenti Grazie Ok E c'è E da quella parte ce n'è un'altra Ok siamo a 26 minuti Ne farei un altro po' Farei un altro po' Fino a quando si può salvare la partita Ok mi serve Paige Ok Banzai Banzai Aprimi tu la porta Jane Sì se riesco a scendere Sganciati Ok Devo prepararmi perché Questo animale si fa vedere Preso Le planaires detestano la luce Raramente escono dalla tana E io sono riuscita a fotografarla Bene Il tuo rullino è finito Bene Ti trasferirò una perla Jade Abbiamo ricevuto un'altra perla E ti ricaricherò il rullino Grazie Avanti Questa è la Quarta perla che otteniamo Ok Mi serve Aprire questo Forse c'è una Salve Indovina chi viene a cena Sì o Paige viene a cena Ok Ok la si può salvare la partita Così chiudo la parte Nella prossima parte Continueremo Promesso Però adesso Non posso continuare Ok salverei la partita Qui Sovrascrivere il file Yes Sovrascrittura Completata Ok Jade e Paige vi salutano Ma no Jade Jade e Paige vi salutano E io dico che Concludo questa parte qua Grazie per avermi seguito Se vi è piaciuto mettete un bel like E dai Me ne lasciate un like Mi faccio gli occhioni Anche a pino di Shrek No sto scherzando Se vi è piaciuto mettete un bel like E se non vi è piaciuto Mettete un bel dislike Vi ricordo di mettere un piaccio Sulla pagina facebook Per rimanere sempre Un attito I miei sociali saranno in description Se volete vedere i miei post Vi lascio il link Al mio instagram E se volete potete seguirmi pure Su tiktok E detto questo Nella prossima parte Andremo dal Terolimax Troveremo il Terolimax Dobs E detto questo Ci vediamo alla prossima E Zaytn E Chi la sei dai E Chi la sei dai Chi la sei dai Grazie per la visione